omicidio alica ferlazzo condannata a 24 anni al miralfiore l'ultimo saluto al pugile minchillo incendio alla scavolini in fiamme tetto dello stabilimento riceci si riaccede la protesta per la discarica progetto guinza perplessità sulla sostenibilità per mercatello buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale delle canale 80 notiziario di mercoledì 27 di settembre che apriamo questa sera occupandoci di una notizia che va oltre i confini della provincia di peso urbino per tornare ad occuparci di uno degli omicidi più efferati avvenuti nelle marche lo scorso anno quello dell'ambulante di origine nigeriana alica ogorciucu ucciso il 29 luglio 2022 a civita nova marche e infatti di poche ore fa la sentenza della corte d'assise di macerata che ha condannato a 24 anni di carcere per omicidio il 33enne filippo ferlazzo un episodio che nacque da una presunta richiesta di elemosina che degenerò in una brutale aggressione in cui ferlazzo colpì l'ambulante da prima con una stampella per poi buttarlo a terra schiacciandogli il collo e la testa fino alla morte ricordiamo che il pm aveva fatto richiesta dell'ergastolo da macerata ci spostiamo a barbara in provincia di biancona dove ad oltre un anno dalla scomparsa a due settimane dal ritrovamento è stato disposto il funerale di brunella chiù tredicesima vittima dell'alluvione delle marche di settembre 2022 il corpo di brunella un corpo senza nome che era stato riconosciuto come quello di un cadavere sepolto nel cimitero di vieste scoperto proprio in questo mese di settembre dunque domenica primo ottobre nella chiesa parrocchiale di santa amri assunta nel paese di barbara verranno svolti i funerali in forma religiosa ed è stato invece un funerale civile svolto in una cornice molto particolare come quella del parco miralfiore che questo pomeriggio ha visto pesaro dare l'ultimo saluto a luigi minchillo figura iconica del pugilato in città e soprattutto pugile salito alla ribalta di successi internazionale fra gli anni 70 e 80 minchillo è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedì e vediamo le immagini del funerale di questo pomeriggio i guantoni al fianco dei pantaloncini di centinaia di scontri memorabili e alle immagini in bianco e nero di una carriera straordinaria e di una box che non c'è più l'anfiteatro del parco miralfiore che questo pomeriggio ha colto il ferretro di luigi minchillo si è trasformato nell'ennesimo ring che ha attraversato l'esistenza dello straordinario pugile allenatore scomparso domenica scorsa a 68 anni a causa di un malore fulminante non un ring di combattimento ma un'arena di amore di affetto e riconoscenza rivolta agli insegnamenti di un monumento sportivo di valori di ispirazione che hanno attraversato l'italia nel funerale civile tenutosi al parco miralfiore in centinaia hanno voluto dire grazie al maestro per le gesta del passato e per gli insegnamenti senza tempo ci mancherai ma di te parleremo sempre al presente perché i grandi maestri non muoiono mai rimangono sempre dentro i nostri cuori ciao maestro ricordi e gratitudine che hanno unito due terre quella della foggiana san paolo di civitate che ha dato in natale a minchino quella di pesaro che l'ha adottato per mezzo secolo e non potrò mai dimenticare il futuro del popolo che ai miei occhi del bambino ti celebrava come un re ricordo quando da bambina mio padre ti citava rivolgendosi al mio carattere mila mi sembri minchillo non fai mai un passo indietro in quel momento era una frase che non capivo ma posteri compresi che era una frase della quale andarne fiera perché come soli i veri campioni sanno fare ti sei dimostrato grande non solo nelle vittorie ma anche e ancor di più nelle sconfitte commozione e applausi per un mondo della box italiana che saluta uno dei suoi interpreti più genuini e coraggiosi e niente sono precipitato oggi per salutare per l'ultima volta fare il mio conto con due ansia alla famiglia Luigi e Minchino grazie parlare a braccio di fronte a una brana è ancora più bello perché riesci a trasmettere l'emozione che Gigi ci ha dato ma un'emozione non tanto per quello che ha fatto come campione lo sappiamo tutti 60 incontri in tutto il mondo campione mondiale campione europeo ha rappresentato l'italia l'olimpiare ma soprattutto per la prenegazione che metteva per portare avanti il nostro mondo in alcuni momenti ci siamo sentiti in difficoltà come pugilato italiano e lui non faceva altro che spronarci che darci consigli per far sì di andare avanti a riportare il pugilato dove lui l'aveva preso un incendio divampato attorno alle 15 di questo pomeriggio nello stabilimento industriale della Scavolini a chiusa di Ginestreto sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ad andare a fuoco è stata una buona parte del tetto di uno dei capannoni che è stato evacuato l'incendio ha interessato soprattutto il padiglione 2 per sedare l'incendio sono arrivati cinque mezzi dei pompieri fra camion e autoscale appartenente ai comandi di Pesaro e Urbino vi daremo ulteriori raguagli nei nostri prossimi spazi informativi e ora vi mostriamo invece le immagini di un altro incendio avvenuto ieri sera nelle quartiere pesarese di Vismara un incendio è divampato attorno alle 22 di ieri martedì 26 settembre in via Lambro zona di Vismara ad alta densità residenziale a prendere fuoco cassonetti della raccolta differenziata di plastica e carta con l'incendio che è stato circoscritto dal pronto intervento dei vigili del fuoco chiamati dai residenti sembra evidente l'origine dolosa e al momento i sospetti sembrano ricadere sull'ennesimo atto vandalico messo in atto da giovanissimi teppisti che gravitano nel quartiere un atto piromane che di fatto si accoda a quello di pochi giorni prima quando ad andare in fiamme era stato un divano lasciato vicino ad un'isola ecologica nei pressi del supermercato Famila i residenti reclamano maggiore vigilanza in una zona dove lo scorso anno si sono ripetuti continui atti di vandalismo ai danni del quartiere ed ora passiamo a Fano dove si intensificano i controlli e le indagini della polizia fra centro e mare dove sono state diverse le denunce e gli arresti per furti e riscettazione prende il nome di Downtown l'operazione di vigilanza info-investigativa della polizia di Fano per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti nelle zone del centro storico del Lido e della Sassonia un'operazione che ha permesso di individuare i responsabili di tre crimini avvenuti ad agosto il primo episodio riguarda le indagini sui furti di biciclette in centro storico che hanno portato il Tribunale di Pesaro a emettere la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Pesaro e di Rimini nei confronti di un 36enne domiciliato a Fano ma di fatto senza fissa dimora l'uomo aveva approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per introdursi nel giardino e impossessarsi di una bicicletta elettrica del valore di 1.350 euro e di tre carica batterie l'aveva poi ceduta ad un rumeno residente a Pesaro per poter acquistare sostanze stupefacenti il 36enne veniva trovato in possesso di droga e dunque tratto in arresto la bici rubata è stata prima rinvenuta in possesso di un terzo soggetto residente a Cagli denunciato per ricettazione e poi riconsegnata al legittimo proprietario il secondo episodio riguarda due croati padre e figlio trovati in possesso in un camper di sette borse griffate del valore di 20.000 euro rubate quattro giorni prima in un'abitazione di Fano e dunque sottoposti a fermo grazie all'analisi delle telecamere presenti nel condominio e alla presenza di alcuni indumenti femminili a bordo del veicolo è stata individuata quale autrice materiale del furto la moglie del giovane arrestato nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguita in provincia di Milano dove la donna è stata rintracciata assieme al marito terzo episodio un furto subito da un addetto alle pulizie delle strade del Lido al quale era stato rubato il portafogli dal mezzo di servizio anche in questo caso è individuato il responsabile un 28enne dimorante a Fano che è stato denunciato altre immagini che arrivano da Fano dove questa mattina attorno alle 8 e un quarto è intervenuta l'eliambulanza per soccorrere una 66enne alla guida di uno scooter che ha riportato gravi ferite dopo essere stata urtata da una Ford Fiesta guidata da un 36enne fanese l'incidente è avvenuto alla rotatoria che collega Via Trave a Via Aldomoro la donna è stata trasportata in elisoccorso alle torrette di Ancona cambiamo zona perché torna a soffiare il vento di protesta in merito al progetto di realizzazione della discarica nelle colline petrianesi di Riceci vediamo il servizio dopo due mesi di acqua sul fuoco gettata dal dietro fronte annunciato a luglio da Marche Multiservizi sul progetto di discarica da realizzare a Riceci si rialza il vento di tensione attorno allo spauracchio della costruzione dell'impianto di smaltimento di rifiuti speciali nelle colline petrianesi ieri sui terreni in questione si sono attivate trivelle per carotaggi dedicati a sondaggi geologici richiesti dal Genno Civile su indicazione del progetto originario di discarica di Aurora SRL un cantiere preannunciato da un post su Facebook del sindaco di Petriano Fabrizioli che aveva chiarito come queste verifiche, già effettuate cinque mesi fa rientrassero in un'attività di edilizia libera prevista dalla legge su aree opzionate con preliminare di compravendita autorizzate dai proprietari e con 180 giorni concessi alla società sanmarinese Aurora per ulteriori verifiche tecniche le trivelle in movimento hanno però mandato subito infibrillazioni residenti con i lavori che sono stati bloccati su segnalazione di carotaggi su un terreno che potrebbe non rientrare fra quegli opzionati lavori sospesi in attesa di verifiche ma che tendono di nuovo un nervo scoperto sull'argomento discarica a pochi giorni da un nuovo vento di protesta pronto a trasformarsi in manifestazione quella prevista per sabato alle 10 di mattina in Piazza del Popolo apparecchiata dalle associazioni diversamente la Lupus in Fabola e il Comitato di Urbino contro la discarica manifestazione che rinfocolerà anche il fronte del nolbio di gestore di Talacchio in un'unica protesta contro un'errata gestione dei rifiuti dalle proteste alle carte bollate ieri è stata notificata una querela per diffamazione a Gianluca Carrabs da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli l'esponente nazionale dei Verdi più Europa viene querelato per frasi ritenute diffamatorie in alcuni interventi pubblici dello stesso Carrabs che attraverso la sua pagina Facebook ha mostrato la notifica del Tribunale commentandola come una medaglia da porre sul petto il prezzo che si paga per dire la verità e difendere il diritto alla salute, alla bellezza e a uno sviluppo sostenibile nessuno mi chiuderà la bocca e impedirà che continui nelle mie battaglie ambientaliste Ed ora torniamo ad occuparci della Galleria della Guinza all'incompiuta fra le incompiute sulla quale ripone tanti sforzi la Regione Marche per risolvere questa opera infrastrutturale che ha preso concretezza rispolverando il vecchio progetto dell'ingegnere Alberto Paccapelo all'epoca dirigente del Servizio Ingegneria Civile della provincia di Pesaro Orbino Paccapelo è stato ospite nei nostri studi e vediamo alcune sue considerazioni in merito a questa grande opera infrastrutturale Probabilmente la più grande opera infrastrutturale in programma per quello che riguarda la Giunta Quaroli della Regione Marche in questo mandato è risolvere il problema dell'incompiuta della Galleria della Guinza si punta a risolverlo con un programma ora stilato che ha una gara d'appalto in corso che ha un crono programma di inizio cantiere entro 2025 e che però ha ripreso un vecchio progetto quello dell'ingegnere Alberto Paccapelo che 40 anni fa da ingegnere della provincia di Pesaro Rubino aveva stilato questo progetto di collegamento intanto le chiedo che effetto fa vedere rispolverare una carta che 40 anni fa evidentemente era già più che efficiente beh diciamo che il progetto finale è stato redatto nel 2003 diciamo l'ultima l'ultima versione che è stata approvata poi dal Ministero dei Beni Ambientali e dei Beni Culturali e tutte le varie altre componenti della conferenza di servizi nel 2013 quindi è un progetto anche abbastanza attuale anche se chiaramente con l'aumento dei prezzi che ci sono stati negli ultimi anni il progetto va rivisto il progetto che adesso l'ANA si intende appaltare riguarda la messa in esercizio della galleria dell'unica canna della galleria che è stata realizzata è stata realizzata una galleria di 6 km chiaramente sono una ventina d'anni che la galleria è è stata lasciata a se stessa e sicuramente ci saranno degli interventi anche edili da fare però l'appalto che è stato che è stato bandito riguarda la sicurezza quindi tutti gli impianti di sicurezza la ventilazione illuminazione e tutto quello che serve per renderla diciamo apribile al traffico con alcune limitazioni che riguardano la diciamo funzionalità che è solo in una direzione cioè direzione Marche Umbria una sola corsia i problemi secondo me più grossi sono quelli di accesso alla galleria sia dal lato Umbro che sono circa 10 km di strada di montagna che chiaramente dovrebbe essere adeguata perché è una stradina larga 4-5 metri 6 metri al massimo con molte curve molti diciamo tornanti molte difficoltà essendo una strada di montagna ma soprattutto dal lato c'è un lato marchigiano che ha un ingresso nel paese di Mercatello molto difficoltoso molto diciamo complicato con l'aumento di traffico che si prevede chiaramente i dubbi e le perplessità espresse dal sindaco di Mercatello non sono secondari insomma perché il paese già ha sofferto molto con tutti i lavori che ci sono stati nel corso degli anni quindi cantieri via vai di camion di macchine centinaia di operai che erano lì insomma è un paese che ha sofferto molto che ha dato molto quindi io penso che meriti una soluzione migliore di quella che è stata fatta da quello che so io il progetto è quello e dovrebbe rimanere quello quindi ingresso dentro il paese di Mercatello con insomma problematiche appunto legate all'incremento di traffico adesso se poi si trovano altri fondi come spero per realizzare diciamo un bypass di Mercatello serve molto meglio cambio al comando dei carabinieri il tenente colonnello Antonio Patruno è il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale prende il posto di Nicola di Cesare che si è trasferito a Bologna dopo tre anni di servizio a Pesaro 48enne di origini pugliesi Patruno proviene dalla compagnia carabinieri di Riva del Garda da lui retta negli ultimi quattro anni Nel comune di Mondolfo il sindaco Nicola Barbieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Brucato hanno siglato oggi un protocollo d'intesa finalizzata al coordinamento dei controlli sostanziali alla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari e le prestazioni sociali agevolate spettanti a cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata un accordo che nasce con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi finanziari connessi all'evasione tributaria e alle misure di sostegno incentivo un accordo che garantirà come misure quali contributi assistenziali riferite a situazioni di indigenza integrazione dirette per servizi di urni accessi in graduatoria e assegnazione di alloggi dell'illizia residenziale pubblica verranno concessi a coloro che ne hanno effettivamente bisogno e domani alle 10 nell'aula magna di Palazzo Battiferri l'Università di Urbino celebra il 50esimo anniversario dell'istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche dopo i saluti istituzionali si terrà una lunga mattinata di approfondimenti fra passato presente e futuro degli studi portati avanti dalla facoltà dell'Ateneo Urbinate il tour ciclistico di 800 km fatto per sensibilizzare le persone a far conoscere il disturbo dello spettro dell'autismo che Andrea De Vincenzi sta compiendo per l'Italia ha fatto tappa questa mattina in piazza del Popola Pesaro qui l'atleta paralimpico e coach è stato accolto dall'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi che ha applaudito la bontà del progetto Albatross particolarmente vicino alle realtà pesarese in questo momento in cui la TS1 sta gestendo 600 mila euro di progetti legati all'autismo ed ora parliamo di cinema in particolare di cortometraggi perché sabato arriva un nuovo festival al cinema Solaris si chiama Incanto Short Film Festival il festival si svolgerà sabato 30 al cinema Solaris a partire dalle 14 e ci saranno 19 proiezioni di cortometraggi italiane ed internazionale e varie interviste con gli autori con i registi con gli attori protagonisti di molti corti abbiamo costituito una giuria tecnica di professionisti del cinema abbiamo Stefano Malchiodi che ha vinto il Davide Donatello per il miglior corto l'anno scorso abbiamo vari sceneggiatori il direttore della fotografia fanese Eugenio Cinti Luciani il festival è organizzato appunto da me e il direttore artistico Matteo Damiani che è il regista dell'ultima festa che è un cortometraggio molto importante girato qui a Fiorenzola di Focara l'anno scorso con il contributo delle Marche Film Commission il festival vuole essere una piattaforma nuova per approfondire il dialogo tra il pubblico e gli autori che verranno qui a parlare delle proprie opere perché non dimentichiamo che il cortometraggio è il biglietto da visita per un giovane autore e soprattutto l'incontro con il pubblico è la cosa che noi dall'altra parte perché siamo noi stessi dei registi sappiamo essere una delle più importanti la volontà di allargare questo bacino di utenza di riavvicinare il pubblico al linguaggio del cortometraggio e al linguaggio cinematografico in generale con la speranza che questo festival cresca e diventa anche un'occasione didattica per i giovani nei prossimi anni con dei workshop con dei laboratori che possano portare il pubblico e i giovani anche a produrre dei piccoli lavori il nostro festival si struttura in due sezioni che sono band apart e la main category abbiamo scelto di fare una selezione proprio per questo che non è una selezione solo come succede in alcuni festival per addetti ai lavori con dei corti magari anche difficili ma con dei corti in questo caso che siano principalmente narrativi e che possano avvicinarsi al pubblico e con cui il pubblico possa dialogare per questo è fondamentale per noi la presenza degli autori che hanno scelto di partecipare alla nostra iniziativa in gran numero di modo che appunto il pubblico possa chiedere domandare fare domande esplorare come questi progetti sono nati in sintesi la categoria band apart presenta dei cortometraggi sperimentali più particolari da documentari corti di animazione opere prime di anche giovani che si avvicinano per la prima volta al cinema e al cortometraggio mentre la categoria main category sono dei corti diciamo con una struttura più articolata con dei budget più grandi abbiamo dei corti anche importanti che sono già stati alla settimana della critica come Reginetta e altri corti importanti quindi queste sono un po' le due categorie con cui il pubblico si confronterà e nel caso della main category potrà anche come potrà il pubblico diciamo votare ci sarà una giuria popolare che decreterà il miglior corto è un piacere ospitarli perché sono tutti giovani ragazzi anche i corti vengono da giovani ragazzi internazionali quindi il cinema Solaris che è sempre aperto alle novità è contento di ospitarli veramente ed è emozionato per questa novità è un festival quindi rimane biglietto omaggio entrata libera finché c'è posto e vi aspettiamo tutti i sabato e dalle 2 fino a in turnover stiamo ancora cercando tra l'altro di costituire la nostra giuria popolare per cui chi volesse partecipare e chi ama il cinema chi insomma è un appassionato di film e serie tv può iscriversi mandando semplicemente una mail all'indirizzo che troverà sul nostro sulla nostra pagina principale che è quella di Instagram e con il festival di cortometraggio in canto short film festival concludiamo questo telegiornale di oggi mercoledì 27 settembre però prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che questa sera è dedicata ai temi della salute legata al benessere sportivo con Movens Day il convegno che si è tenuto lo scorso weekend alla palestra Movens stasera alle 21.20 vedremo la presentazione del centro è un convegno dedicato a salute e prevenzione e poi vi ricordo come sempre l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta dal lunedì al sabato a partire dalle 7.20 si conclude invece qui lo spazio informativo di Rossini News vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV